Sono giornalista, scrittore, alle mie spalle una lunga esperienza come critico d'arte in una rivista specializzata e da qualche tempo mi sto dedicando alla narrativa. Ho scritto alcuni romanzi di tema e argomento diverso e ora mi sono buttato a capofitto nel filone del giallo storico con la serie del giudice Albertano. È uscito alcuni mesi fa ed è il secondo volume della collana dedicata al personaggio del giudice Albertano. Spieghiamo brevemente chi è Albertano. Albertano da Brescia innanzitutto è un personaggio realmente esistito. Era un uomo di legge, un filosofo e uno scrittore vissuto nel XIII secolo. Nato a Brescia e svolse anche un'importante attività diplomatica per conto del comune e ci lasciò alcuni scritti che sono pervenuti fino ai nostri giorni, in particolare tre trattati molto importanti che hanno influenzato scrittori, filosofi e teologi non soltanto italiani e non soltanto dei suoi tempi ma anche delle epoche successive. In particolare uno dei suoi trattati è stato tradotto da Ciosa che l'ha trasformato in uno dei suoi celeberrimi racconti di Canterburi. Il verbo fu scandito in sillabe e le sillabe, liberate da cento e cento e cento gole, si fusero insieme e insieme e riecheggiarono nelle piazze scintillanti e nei vicoli di tenebra della città lombarda. E il verbo che annunziava il prodigio divenne il suo stesso prodigio, mutando in un unico melodioso canto, una musica perfetta e sublime. Stiamo parlando di un periodo assolutamente poco frequentato, poco studiato e poco conosciuto. Il XIII secolo è un periodo davvero quasi sconosciuto ai più, eppure è un periodo fondamentale perché se ci pensiamo bene sia l'arte che la letteratura italiana cominciano a formarsi proprio in questi decenni, nei decenni in cui opera il nostro giudice Albertano. Il mondo medievale mi ha affascinato proprio perché lo ritengo molto meno oscuro e misterioso di come lo si crede di solito. In realtà è un periodo di grande movimento, di grande fermento e proprio in questi anni maturano interessanti novità sia sul piano storico che sul piano culturale. Albertano è un personaggio assolutamente non trascurabile di questo periodo, di questa temperie. La cosa un po' che mi infastidisce è rendermi conto giorno dopo giorno che sono proprio i Bresciani quelli che conoscono meno un personaggio così straordinario e che viene studiato, per fare solo un esempio, nelle università americane anche per le sue analisi economiche sicuramente innovative, le analisi che possiamo ritrovare all'interno dei suoi trattati. Ti confesso che mi risulta più facile riconoscere la verità nel buio della falsità assoluta che non nella nebbia dell'approssimazione. Mi è più facile trovare la luce scrutando nel nero della notte che non nell'ingannevole gregiore del crepuscolo. Non so che cosa potrebbero pensare di ciò i filosofi e tuttavia tale è il mio convincimento. Io leggo questo periodo come già lo dicevo prima un momento di grande fermento e di grande speranza nel futuro. Oggi mi sembra che stiamo andando un po' nella direzione opposta. C'è poca speranza e poca fiducia nel futuro. I libri dedicati ad Albertano, i romanzi dedicati ad Albertano per il momento sono due. Il primo, Il giudice Albertano e il caso della fanciulla che sembrava in croce, si ispira al trattato di cui facevo riferimento prima, quello per intenderci tradotto da Ciosar e trasformato in uno dei racconti di Canterbury. Il secondo romanzo, che è quello più recente, Il giudice Albertano e il caso dell'uomo pugnalato fra le nuvole, è invece ispirato a un altro trattato di Albertano, Lars, Loquendi e Tacendi, dedicato all'arte del buon parlare e del buon tacere. Però attenzione, chiariamo bene agli ascoltatori, questi romanzi sono dei gialli, gialli, sono autentici gialli storici costruiti secondo le caratteristiche del giallo deduttivo classico. Quindi il nostro buon Albertano diventa un investigatore, uno Sherlock Holmes ante litteram e affronta dei casi di omicidio molto intricati che poi risolve. Ecco, quindi lo spunto storico è uno spunto e nulla più. Ecco, poi c'è una costruzione di tipo narrativo che si ispira ai classici del giallo. Era notte di plenilunio, il prato davanti alla casa ne era illuminato come di giorno, di una luce algida e bianchissima che proiettava esigue linee d'ombra e sembrava annichilire ogni foglia, paralizzare ogni filo d'erba, stingere ogni petro di fiore campestre, quasi che il paesaggio si fosse trasformato per prodigio in una gigantesca miniatura di cui prima di colorirla il pittore avesse tracciato con inchiostro i contorni sottili. Trattandosi di gialli deduttivi, confesso tutta la mia passione per i grandi maestri del giallo classico deduttivo, a cominciare da Conan Doyle naturalmente, Chesterton con il suo padre Brown che forse il mio autore preferito. In particolare, ecco, per citare almeno altri due nomi, due autori che mi piacciono molto e cui indegnamente mi sono ispirato sono da un lato Ellery Quinn per i suoi meccanismi di precisione e dall'altro John Dickson Carr, autore anche questo non conosciuto come meriterebbe almeno in Italia. Mi sono ispirato a John Dickson Carr soprattutto nel secondo romanzo perché si tratta di uno dei cosiddetti enigmi di camera chiusa nei quali John Dickson Carr era un maestro. Che cos'è l'enigma di camera chiusa? È un delitto che avviene in una stanza oppure in una situazione analoga, ma in genere una stanza perfettamente chiusa e sigillata dall'interno. All'interno di questa stanza c'è la vittima, per cui naturalmente il lettore dice si tratterà di un suicidio, non è possibile che si tratti di un omicidio in questo contesto, in realtà invece si tratta di un omicidio e le modalità in cui questo delitto è avvenuto devono essere perfettamente logiche, perfettamente scientifiche, perfettamente spiegate, non sono ammesse soluzioni di altro genere. Per cui l'abilità dell'autore è quella di saper costruire una vicenda anche dal punto di vista tecnico di questo tipo. Per il lettore è altrettanto importante rispondere alla domanda chi è l'assassino rispetto a quella come è avvenuto il delitto e sicuramente questi sono secondo me tra i gialli più affascinanti per gli amanti del genere. Ecco, io ho tentato di ispirarmi a questi grandi autori ed ho costruito un enigma di camera chiusa. C'è una vittima che viene trovata in una stanza perfettamente chiusa dall'interno. Sappiamo che si tratta di un omicidio e non di un suicidio e il giudice Albertano, usando solo, come direbbe Poirot, le celluline grigie, riesce ad arrivare alla soluzione. Ecco perché qui si tratta esclusivamente di razionalità, anche nel misterioso Medioevo si faceva uso di razionalità. La storia prende il via dalla città, dal libero comune di Brescia, per la precisione da un monastero benedettino, il monastero dei Santi Cosmo e Damiano, un monastero realmente esistito, poco conosciuto anche dagli storici. Pensate, rimase aperto per oltre mille anni, prima che Napoleone lo chiudesse, eppure non dico che se ne siano perse le tracce, ma quasi. Ecco, quindi in questo contesto che io ho ricostruito anche dall'analisi di documenti d'archivio, in questo ambiente, come è tradizione, di molti gialli storici, il monastero è proprio un classico direi, inizia la nostra storia, che poi si sposta verso la pianura. Ci spostiamo nelle pianure di Monti Chiari, o meglio Monte Chiaro, come veniva chiamato allora. Tra i campi e le paludi di Monte Chiaro si svolge il nostro delitto di camera chiusa, e una delle scene fondamentali del romanzo si svolgerà poi nella pieve di San Pancrazio, che tuttora fortunatamente esiste, quindi uno dei capolavori dell'architettura romanica dell'Italia settentrionale. Ecco, quindi c'è una scena fondamentale del romanzo che si svolge all'interno di questa pieve che già allora c'era e funzionava e dominava su tutta la pianura circostante. Aveva camminato ancora sotto il sole d'estate, non mangiando nulla, bevendo l'acqua melmosa delle rogge. Quando era sopraggiunta la notte aveva dormito in un prato, sepolta dall'erba fiorita. Mentre lontano abbaiavano cani e la civetta gridava, graffiando la volta del cielo, col lugubre presagio del suo stridio incessante. Tanti mi chiedono come arrivi l'ispirazione. Ecco, non c'è una risposta. L'ispirazione arriva improvvisa, ma può arrivare di giorno, di notte, mentre sto guidando, mentre sto mangiando. Ecco, si deve accendere una piccola luce. Io sono favorito comunque da un contesto storico e geografico ben definito e ben costruito già in precedenza. L'idea è appunto un lampo, una luce che si accende e attorno alla quale si lavora, ma è appunto solo una piccola idea senza la quale non ti puoi mettere al lavoro, ma il lavoro arriva poi dopo. È un lavoro duro, faticoso, che non consiglio a tutti, perché a volte c'è veramente da andare un pochino fuori di testa. Ecco, diciamo che per scrivere un romanzo ci vogliono 8-9 mesi, compresa la fase di preparazione e costruzione. Una fase di attenta prescrittura, io la definisco la mia impalcatura, una sorta di architettura entro la quale va definito il romanzo in ogni piccolo dettaglio. Stiamo parlando di un giallo deduttivo, non ci deve essere neanche il minimo errore, neanche il piccolo dettaglio fuori posto, per cui è richiesta una fase di preparazione molto intensa. E poi c'è la scrittura. Io ho una scrittura che credo sia accessibile a tutti, non serve essere dei fini intellettuali per leggere i miei libri, ho voluto scrivere dei romanzi che fossero appunto comprensibili e accessibili a tutti, però ci tengo a scrivere con uno stile ben preciso, ben levigato, ben accurato e questo mi porta a prevedere almeno tre revisioni, ecco, per cui il lavoro è faticoso anche se le soddisfazioni non mancano. Devo dire che sono stato fortunato. Quando il libro era, direi, non ancora nemmeno completato al 100%, era ancora in fase di rifinitura, l'ho proposto a un editore bresciano, Libere Edizioni, che si è entusiasmato all'idea ed ha accettato subito di pubblicarlo addirittura a scatola chiusa, non l'aveva neanche ancora letto. Credo sia stato ripagato perché il libro, il primo libro è andato molto bene, tant'è che a distanza di un anno abbiamo deciso di scrivere il secondo, che è uscito da poco ma che sta andando, mi dicono, altrettanto bene a livello di vendite. Con l'editore abbiamo pertanto deciso di realizzare una collana, la collana si intitola semplicemente Il Giudice Albertano, il giallo medievale secondo Enrico Giustacchini è il sottotitolo. L'idea è di realizzare quindi una serie di romanzi con questo protagonista un po' come i grandi autori del passato. Speriamo di continuare così. Se dovessi dare dei consigli molto semplici a un giovane che volesse mettersi al lavoro per scrivere un romanzo, magari un giallo, un fantasy o comunque un'opera cosiddetta di evasione, ecco, io do un consiglio semplicissimo che credo e credo anche abbastanza banale. Prima leggi molto, leggi molto, leggi soprattutto i classici, ma spazia, svaria, io ho letto centinaia di gialli e non tutti erano dei capolavori sicuramente. Quando credi di essere riuscito a costruire dentro di te un tuo stile, un tuo abbozzo di stile personale, di avere acquisito qualcosa di forte, di entusiasmante dentro di te, allora provati, provati a scrivere e continua a studiare, continua a prepararti, continua a documentarti, documentati bene, anche se tu volessi scrivere un giallo storico, caro giovane a cui mi rivolgo idealmente, dedica mesi a studiare, anche se poi userai solo il 10% del materiale che hai raccolto sul quale ti sei documentato. Ecco, a questo punto, con questa forte base dietro di te, puoi metterti al lavoro, non scoraggiarti soprattutto dei fallimenti, non scoraggiarti se ci saranno dei giorni in cui avrai la classica sindrome del foglio bianco. Fermati, riparti il giorno dopo, ecco, abbi fede, abbi costanza e probabilmente se hai le qualità sarai ripagato. Mi piace sottolineare un aspetto che sicuramente impreziosisce i libri di questa collana, al di là degli aspetti letterari, degli aspetti narrativi c'è una grafica molto accurata, molto attenta, molto coscienziosa. Questi libri sono arricchiti da tavole molto belle realizzate dall'artista Andrea Giustacchini che si è ispirato, sia pure liberamente, alle miniature sicuramente medievali, ma con grande attenzione si è ispirato alle miniature realizzate proprio nel periodo in cui si svolgono le vicende del nostro giudice Albertano, quindi attorno alla metà del XIII secolo. Ecco, partendo da queste miniature, Andrea Giustacchini ha realizzato delle tavole veramente straordinarie per accuratezza, per brillantezza, per forza poetica e artistica. È veramente un valore aggiunto al libro che io consiglio a tutti. Teodoro incantava con i suoi ragionamenti. Passato, presente e futuro, origine e destini del corpo e dell'anima si ancoravano saldissimi per l'amirabile valenzia di quel timoniere sopraffino. Alle eterne pulsioni della macchina celeste, ai centocchi risfavillanti che disegnavano nel nero della notte puntiformi figure di bestie bizzarre e dei pagani. Si dice che in Italia si legga poco e probabilmente è vero. Io però girando la provincia e non solo per promuovere il libro, girando biblioteche, sale consigliari, luoghi turistici, piazze, ecco, a presentare il mio libro mi accorgo che non è poi così vero. Può darsi che i lettori siano comunque una minoranza, ma sono una minoranza forte, presente, che ha voglia di sapere, che ha voglia di informarsi, che ha voglia di conoscere gli autori, di sapere da loro come nascono i libri, perché hanno l'entusiasmo di scrivere dei libri e condividere con loro l'entusiasmo, se non della scrittura, quantomeno della lettura, la lettura che apre la mente e ci permette di guardare veramente verso orizzonti sconfinati. Grazie 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 Grazie